Ancora un cordiale ben trovato al pubblico di Talk Sicilia per questo nuovo appuntamento con i nostri speciali elettorali durante i quali vi presentiamo i candidati sia delle elezioni politiche, Camera e Senato in Sicilia, sia delle elezioni regionali e quest'oggi è nostra gradita ospite in studio Cleo Licalzi, candidata del PD alle elezioni regionali. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie per l'invito. E con lei parliamo un po' di quelli che sono gli argomenti che sono il pane quotidiano per la sua attività, a cominciare dal PNRR. Perché il pane quotidiano? Perché Cleo Licalzi è la responsabile PNRR del PD Sicilia. Correggimi se sbaglio, Cleo. Assolutamente. E allora, PNRR è certamente al centro di questa campagna elettorale, ma sarà al centro di tutti i prossimi anni di amministrazione. È un'occasione, è un'opportunità, ma ci sono anche tanti rischi. Non siamo partiti col piede giusto in Sicilia? No, non siamo partiti e siamo fermi ancora a raccontare se è un'occasione o un'opportunità, mentre il PNRR è nel vivo. Il PNRR ha bisogno di una programmazione e di una visione alta. Noi siamo mancati finora per visione, per progettualità e quindi la Sicilia ha finora perso in tantissime occasioni. Io ricordo sempre che la sigla PNRR la dobbiamo tradurre in piano nazionale di riforme e di responsabilità. Riforme che sono necessarie, una per tutti la semplificazione per poi dare agibilità alla progettualità che abbiamo, una programmazione, ma la responsabilità nel sapere che lo sviluppo dipende da un'alleanza tra le imprese, le forze sociali, i cittadini e la politica. Non può essere una questione di parte, invece la prima parte del PNRR ci ha trovato assolutamente impreparati. Se sarai eletta alla regione siciliana, quindi sarai deputato, certamente avrai un ruolo per cercare di spingere in questo senso. E la regione non è partita, dicevamo, col piede giusto, ma c'è anche un problema organizzativo. Sì, io ho messo a disposizione del progetto del Partito Democratico e della coalizione che sostiene Caterina Ghinnici la mia competenza, la competenza come persona si occupa di fondi europei da oltre 30 anni e del PNRR, quindi per mettere a disposizione quella competenza che serve per mettere a posto la macchina. La macchina, io lo specifico, non va buttata giù, non è la macchina che non funziona, la macchina amministrativa regionale, ma va rigenerata, va riqualificata, ci sono formazioni che dobbiamo aggiungere al capitale umano che c'è in, per esempio, la digitalizzazione. Il capitale umano della regione ha un tempo di assunzione che ha bisogno di essere riqualificato su temi come transizione digitale e transizione ecologica, ma ripeto, c'è bisogno di un programma chiaro su cosa vuoi fare, perché il PNRR lo conosciamo, le misure ci sono, non le stiamo andando a scoprire di bando in bando, eppure ci facciamo trovare impreparati. Non dimentichiamo che il PNRR va insieme al nuovo programma dei fondi europei 21-27, che per i ritardi sinora accumulati dal governo della regione siciliana, in realtà sta per partire adesso, anche se si chiama 21-27. Quindi capiamo che arriveranno tantissime risorse in Sicilia, non le possiamo sprecare per fare dei progettini di parte o dei piccoli progetti, perché avremmo anche in questo caso sprecato l'occasione. Quindi ho messo la mia competenza a disposizione di una stagione che ha bisogno di competenza, ha bisogno di conoscenza di quali sono i meccanismi per cui possiamo trasformare questa grandissima opportunità che ci dà l'Europa. Ricordiamocela che il Partito Democratico ha fatto una battaglia in Europa per riuscire a avere il PNRR. Io lo dico perché i partiti che stanno al centro-destra sono tre partiti che non volevano il PNRR, quindi è bene ricordarlo. Però questo non ha bisogno di avere il PNRR, rischiamo di perderlo. Noi abbiamo visto con le reti idriche cosa è successo e con tante altre risorse. È notizia di queste ore. Stiamo perdendo 900 miliardi del programma Goal per le politiche attive del lavoro, perché non abbiamo adeguate, non diamo garanzia ad adeguate professionalità per trasformare le politiche attive del lavoro in vere occasioni di lavoro per i lavoratori. Tutto questo la Sicilia non può permetterselo e quindi noi vogliamo portare al governo regione siciliana persone che parlino lingue di competenza. Intanto ricordiamo che Cleolica Alzi è stata anche assessore regionale, quindi quando parla di macchina regionale la conosce dall'interno. E allora come si può fare a evitare che questo avvenga o continui ad avvenire? Io la conosco abbastanza bene perché oltre all'esperienza di assessore al turismo che tu ricordi, io sono stata dirigente della regione, ho guidato il nucleo di valutazione della spesa pubblica e dei fondi europei e da 30 anni ho speso il mio tempo in ruoli burocratici, in ruoli della pubblica amministrazione, per cui io difendo il capitale umano della pubblica amministrazione. Il problema non è la burocrazia, ma i freni che noi mettiamo alla potenzialità che è il personale della regione siciliana. Il personale della regione siciliana, dicevo prima, va riqualificato, tu non puoi chiedere a una persona assunta 20 anni fa di sapere quali sono i meccanismi per affrontare i paradigmi della transizione digitale. È un meccanismo che c'era dopo, però le procedure, la semplificazione ci sono, quindi dobbiamo anche lavorare molto sulla motivazione del personale e come dicevo prima sulla sigla PNR, sulla responsabilizzazione del personale ai risultati. spesso le persone se non vengono coinvolte, non vengono motivate, non sono strumento per fare le cose, ma semplicemente diventano oggetto di critiche. Io ho trovato nelle mie esperienze in regione straordinaria professionalità e non è giusto spostare su di loro il problema. Io dico sempre che è la testa che deve guidare il sistema. Non possiamo dare la colpa del mancato PNRR al sistema della pubblica amministrazione siciliana. Hai partecipato all'assessura del programma del candidato di centro-sinistra, Caterina Chinnici, candidato del PD e dei Centopassi, perché sappiamo tutti come stiano risvolte le vicende che hanno portato a queste candidature. Una delle cose che ci ha detto Caterina Chinnici, proprio mentre era seduta su quella sedia, è stato proprio che nei suoi primi 100 giorni la prima cosa dalla quale partirebbe sarebbe proprio la riorganizzazione dell'amministrazione regionale e la creazione di un ufficio ad hoc. Quel programma viene da tantissimi confronti e da tantissime riflessioni. Adesso il programma è uno, quindi diciamo le stesse cose e parliamo in maniera univoca. E bisogna partire da questo. Quello che tu ricordi che ha detto Caterina Chinnici è la stessa cosa che sto adesso dicendo io, cioè dobbiamo partire da quel sistema che motiva e riqualifica il sistema. Tu non puoi cogliere un'opportunità straordinaria come il PNRR senza avere una macchina preparata a fare questo. Quindi da una parte rigenerazione della macchina amministrativa, riqualificazione, investimento sul capitale umano. Dall'altra invece semplificazione, ma semplificazione vera, non soltanto dichiarata. Noi abbiamo spesso coacervi di leggi che poi è difficile intercettare e rileggere con continuità. Noi invece abbiamo bisogno di dare certezze, certezze nei tempi, certezze nelle cose che si possono e non si possono fare chiarezza, trasparenza e questo è possibile solo se coniughiamo bene quella R di riforma del piano nazionale di riforma e responsabilità, come io l'ho ribattezzato. Ribattezzato infatti, perché non è così che si chiama il piano, ma questa è il… Ma si chiama, vedi, Maglio… Ripresa è resilienza. Bravo, resilienza, cosa significa? Nell'accezione, spesso viene utilizzata male, consideriamo che l'hanno chiamata così mentre eravamo in pieno lockdown, quindi ci davano un po' l'incentivo a resistere, però resilienza significa resistere. Resistere cosa? Nel fare gli errori che abbiamo fatto? No. E allora in economia comportamentale, insegno questo all'università, c'è la resilienza dinamica. Imparo dai miei errori, correggo i miei errori e li faccio. Allora affrontiamo i problemi della regione siciliana, guardiamo in faccia i problemi, troviamo le criticità e usiamo il PNR per risolvere quelle criticità, non per mantenere quelle criticità. Il PNR nasce per ridurre i divari sociali, economici, territoriali, di generazione, di genere, tutti questi divari. Affrontiamoli e attraverso quelle risorse diamo risposte precise a questi divari. Ricordavamo Pocanzi l'esperienza da assessore al turismo. E il turismo è certamente uno dei volani che questa terra potrà per sfruttare e che forse fino ad oggi non l'ha sfruttato bene. La potenzialità del turismo sono straordinarie, però anche qui guardiamo le criticità. Siamo in questa fase dopo i due anni e mezzo di crisi dovuta al Covid che ha certamente messo in ginocchio il sistema del turismo. Il turismo è ripartito e particolari condizioni fanno sì che la Sicilia sia meta di turismo e i numeri degli arrivi hanno fatto sì che per esempio l'aeroporto di Palermo e di Catania sono a standard che hanno recuperato i livelli del 2019. Ma oggi abbiamo una crisi ancora più aggressiva che è quella del caro bolletto e che ha anche una spinta inflazionistica. Oggi il costo delle materie prime è altissimo. Il turismo consuma, consuma energia, consuma gas, consuma luce e tutto il sistema del turismo che io chiamo turismo allargato, quindi va dalla ristorazione al commercio al turismo a tutte le filiere che sono soppollegate. Si trovano ad affrontare la drammatica problematica del caro bolletto che rende per molti di queste attività anche impossibile procedere. E di questo mi spavento molto perché laddove c'è una spinta inflazionistica, laddove cresce il costo dei fattori produttivi, a pagarne è il lavoro. Lo è in termini di precariato, spesso il turismo ha le stagionalità che portano al precariato, ma lo è in termini di sicurezza del lavoro e di garanzia del lavoro. Quindi dobbiamo tenere altissima la guardia, dobbiamo attivare subito le risorse, alcune sono nazionali, alcune sono regionali, fare subito quelle misure che servono per fare in modo che le imprese, le piccole imprese, tutto il sistema che sta dietro al turismo riesca a resistere al turismo come tutte le filiere che oggi sono flagellate da questa grandissima crisi energetica. E infatti era questa la domanda successiva, non riguarda soltanto il turismo, il problema della crisi energetica, perché il caro bolletto mette a rischio le attività produttive, oltre alle famiglie, praticamente in tutti i settori, dal semplice panettiere in poi. Sì, secondo me è un'emergenza, io ho gridato allarme più volte e non possiamo aspettare che ci siano dei governi nazionali e regioni in carica per fare le azioni, perché saremo arrivati a ottobre inoltrato e nel frattempo le imprese saranno chiuse e i cittadini non avranno potuto pagare le bollette. Ricordiamoci una cosa, mentre se mi arriva una multa e io non la pago, lo Stato ancora aspetta, se invece io non riesco a pagare la bolletta mi taglio la luce, sono servizi essenziali la luce e il gas per le famiglie per poter cucinare, quindi non sono certamente beni di luso, sono beni essenziali, dobbiamo intervenire subito, quindi anzitutto una moratoria sulle bollette, un intervento sulle famiglie, sulle imprese, il raddoppio del credito imposta, la possibilità di calmierare il prezzo dell'energia, perché io lancio anche un allarme, il caro bollette ha avuto una spinta inflazionistica, però stiamo attenti alla speculazione e alle lobby, io leggo di chi produceva energia e ha un incremento del 40% dei propri profitti, allora quando parlavo di divari, i divari sono le diseguaglianze, stiamo attenti che il caro energia sta facendo guadagnare alcuni grandi, sta mettendo in ginocchio tutti gli altri, noi credo che non possiamo nella nostra responsabilità aspettare fino a ottobre, potrei dire guarda vinciamo le elezioni, poi arriviamo noi e troveremo la soluzione, la soluzione va trovata adesso perché non arriveremo a fine ottobre senza vedere chiuse moltissime attività e senza vedere veramente prendere questo e credo che anche qui è un problema di programmazione, perché sì dipende dalla guerra in Coraina e da sicuramente una situazione geopolitica ampia, però anche qui manca una vera transizione ecologica, non l'abbiamo affrontata e non abbiamo avuto programmazione, per cui oggi stiamo scoprendo che avevamo una dipendenza dalle fonti energetiche, non abbiamo prodotto, allora lavoriamo subito sulla transizione ecologica e sulla indipendenza economica delle fonti energetiche, su un price cap al prezzo del gas. Ma questo va associato perché lavorare sulle fonti energetiche sulla produzione chiaramente sarà a medio termine, ma nell'immediato serve un intervento che calmieri quantomeno il prezzo. Moratoria delle bollette, credito d'imposta per cui tu recuperi ciò che stai spendendo per questo, è sicuramente un intervento immediato su un livellamento massimo del costo dell'energia, non può avere gli incrementi che ci sono, perché si deve stare a mettere insieme la liberizzazione del mercato, che comunque è un fatto positivo, prima avevamo un solo gestore, si apre a un libero mercato, col fatto che questo libero mercato non può produrre extra profitti che vengono soltanto a danneggiare cittadini e imprese, quindi c'è bisogno di stabilire che lo Stato stabilisca un prezzo massimo per cui può essere erogata l'energia, può essere pagata l'energia. Abbiamo visto in molte bollette di ristoratori, di negozianti, io vedo incrementi che non sono tollerabili, tu puoi gestire, vedi un aumento del 20%, del 30%, del 400%, nessuna impresa sana può gestirla. Infatti è così che stanno andando le cose, gli aumenti medi che si vedono nelle attività industriali, chiamiamole così, sono circa del 400%, ma un'altra delle proposte che circola è quella di differenziare il costo dell'energia a secondo della fonte di produzione. Sì, questo centra con quell'obiettivo di medio termine della transizione ecologica, dobbiamo cominciare a incentivare una produzione di energia anche più rispettosa, il tema del cambiamento climatico anche qui ci sembra distante, improvvisamente troveremo a non poterlo gestire e avremmo detto, non lo sapevamo, anche qua in resilienza sempre a cercare di non vedere i problemi, però questo centra con la programmazione, centra col turismo, va tutto insieme, centra la produzione di cosa facciamo del nostro rifiuto che deve diventare una risorsa, non soltanto un costo, cosa facciamo della produzione di energia, noi dobbiamo metterlo in un ragionamento tutto insieme, col turismo, con l'agricoltura, altro ricchezza della nostra terra, anche con la possibilità che questo sia occasione di lavoro per i nostri giovani, perché questo è un altro tema importante, non dimentichiamo che noi stiamo lasciando andare via i giovani della nostra terra, che sono il nostro talento di ricambio per poter affrontare anche bene queste transizioni e non ci basta gli slogan con cui li vogliamo trattenere e non li vogliamo far andare via, quando prima ti accennavo al fatto che si rischia di perdere i soldi PNR per le politiche attive del lavoro, le politiche attive del lavoro significa la possibilità di creare posti di lavoro per questi giovani e quindi indirizzarli verso sistemi di formazione e loro competenze che siano congrui con le occasioni di lavoro che noi andiamo a creare qui, perché altrimenti ci sarà sempre questo dislivello tra domande e offerte C'è un altro grande tema che si affronta sempre quando si parla di Sicilia, che è quello delle infrastrutture, lì il PNRR però non è dedicato alle grandi opere Mettiamo sempre insieme PNRR, FSC che è il Fondo di Sviluppo e Coesione e i fondi europei 2127 che invece sono dedicati anche alle infrastrutture, mettiamoli insieme abbiamo 50 miliardi da gestire per i prossimi anni, sono tantissimi, io dico sempre mettiamoli nelle mani giuste, mettiamoli nelle mani che ci garantiranno che sarà finalmente affrontato il problema dell'insularità, dell'insularità infrastrutturale, noi penso che 20 anni, 30 anni che sentiamo dire che c'è un problema nelle nostre strade, che c'è un problema di collegamento viario e c'è un collegamento per la mobilità turistica, perché noi portiamo i turisti qua e poi il turista non può girare la Sicilia perché ci sono le strade, ma c'è un problema di pendolarismo nostro, c'è un collegamento di aree interne, c'è un problema di provincia non collegata col centro urbano, parlo di quotidianità delle persone, tutto questo poi pesa sulle materie prime, sul trasporto della merce, sull'accesso ai servizi, allora questo è il tema delle infrastrutture e noi dobbiamo permettere l'infrastrutturazione della Sicilia, le risorse ci sono, ma se facciamo passare 5 anni di programmazione per andare poi a fare, ve lo dico con molto rispetto, il restauro di una facciata piuttosto che una sagra, o tante sagre, piuttosto che un bel evento e poi non facciamo le infrastrutture che ci servono e magari ci distraiamo su fare narrazioni di grandissime infrastrutture e poi il collegamento ferroviario tra le città metropolitane e l'entroterra manca e allora non abbiamo le possibilità di veramente realizzare quello sviluppo e allora l'occasione dei fondi europei uniti al PNRR, al Fondo di Sviluppo e Coesione deve essere affrontato in un'ottica che va a ridurre i divari e la marginalità, l'insularità è uno dei divari. Il Centro Vesta sta facendo, come ha fatto in altre occasioni, la campagna anche sul Ponte e sullo Stretto? Bella queste campagne sul Ponte e sullo Stretto, io credo che, ho sentito parlare la prima volta che avevo 14 anni, ne ho molti di più, sento sempre parlare di queste campagne sul Ponte e sullo Stretto, è sempre l'occasione, è sempre la possibilità per farlo. Non entro nel merito perché non mi piace parlare di un programma che abbiamo da sempre, non l'abbiamo fatto, abbiamo pagato la progettazione e quindi in qualche modo dobbiamo capire di questa progettazione, il Ponte che ne dobbiamo fare, anche se la progettazione è comunque ormai datata, perché io facevo il Presidente di Sviluppo Italia Sicilia quando si è fatta questa programmazione, sono passati 12-13 anni, quindi ricordo questo, però se noi facciamo il Ponte e poi non c'è l'infrastrutturazione viaria e ferroviaria all'interno della Sicilia, se non ci sono i nodi logistici, se non c'è la possibilità di far viaggiare merci, tu credi che il problema sia solo il Ponte? No, certamente no, ma il grande tema è capire se ti può fare l'uno e l'altro o se non ha senso farlo. Questo lo affronteremo nelle reggie politiche complessive che avremo, perché non è, vedi, i grandi temi come questo non è il tema di una parte politica, è della parte che avrà la responsabilità, quindi governo e Parlamento, maggioranza e opposizione, che avrà la responsabilità di affrontare il suo tema, ma che dovrà affrontarlo con serietà, cioè non Ponte sì, Ponte no, ma qual è il sistema di infrastrutturazione che ci fa superare la marginalità? Oggi noi abbiamo tantissimi giovani che lavorano fuori sede, sai la cosa che mi sento più dire? io ti vorrei votare, ma non posso tornare a casa il giorno del voto, perché lo sai quanto costa il biglietto? Questo mi rispondo, e questa è una delle ferite più grandi che abbiamo nel sentito di dire, perché abbiamo fallito, se si dice questo. Era una domanda successiva, è un po' la sostanza che hai anticipato. Perdonami, ma è una cosa che mi sento dire continuamente. Era una domanda successiva semplicemente perché da consigliere di amministrazione della GESAP, quindi che si occupa degli aeroporti, sicuramente ci può parlare anche di questo tema, perché fondamentalmente uno dei grandi temi è quello di quanto ci costa spostarci. Se non scegliamo il ponte, ma dobbiamo volare necessariamente, o se le due cose comunque devono stare, perché poi anche se ci fosse il ponte, comunque l'aereo sarebbe necessario per i grandi spostamenti, è impossibile spesso per chi si trova in esigenze e in determinati periodi dell'anno spostarsi con l'aereo. Sul voto fuori sede, per me bisognerebbe costruire un meccanismo per poterli fare votare anche senza scendere un solo giorno, questa è un'altra parentesi, il voto elettronico piuttosto che il voto come fanno i cittadini all'estero, questo è una legge nazionale. Faccio un'altra parentesi, il voto elettronico viene utilizzato in tante strutture privatistiche o comunque, la società non si capisce perché non si possa poter utilizzare. Anche in tanti altri stati, quindi possiamo bastemulare. Parlavo d'Italia, però dico non vedo perché non si deve poter utilizzare il voto elettronico per semplificare abbattendo anche i costi, migliorando anche l'affluenza perché sicuramente aiuterebbe tanti, ma questo è una parentesi. E superando l'astenzionismo involontario, abbiamo già un grande astenzionismo, ma quello involontario perché non abbiamo fatto rientrare potremmo evitarlo, come vedi questo è trasversale a qualsiasi schieramento, ma sulla domanda sui collegamenti, noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro per cui abbiamo aumentato i collegamenti con tante altre destinazioni e ancora tantissimo deve essere fatto, per cui la ripresa del turismo passa anche da un lavoro fatto per raggiungere sempre più scali, però vale sempre la stessa cosa, noi non dobbiamo portarli su Palermo, su Catania i turisti, una volta atterrati, quindi penetrati nell'isola, su Palermo e su Catania, noi dobbiamo poterli far girare, poterli far fruire di tutta l'isola e quindi torniamo ai collegamenti. Per quanto riguarda il costo dei voli, anche qui è un tema di liberalizzazione, il mercato si è liberato, anche la fuoriuscita di Alitalia ha comunque cambiato tantissime dinamiche e ha permesso di non avere più alcuni cartelli che si facevano su Roma e su Milano, per cui i prezzi erano appartemente elevati, ma il tema è complessivo, il tema è di programmazione, il tema è anche di esaminare bene quali tipi di voli sono destinati ai fuorisede, quindi a un pendolarismo, quali sono invece i tipoturistici e farli arrivare a destinazione finale, anche qui se non guardi il sistema complessivamente, guardi solo un pezzo del problema, risolvi il pezzo di un soggetto, in questo caso società di gestione dell'aeroporto, piuttosto che il cittadino che si deve muovere e non risolvi invece un problema globale e l'economia, lo sviluppo si fa guardando il problema globale e noi dobbiamo rendere la Sicilia una terra attrattiva e di sviluppo, non un'isola staccata al resto del mondo. L'insularità è una caratteristica naturalistica che ci mette in alcune rotte turistiche privilegiate, ci hanno scelto e siamo incrementati come turismo proprio perché la condizione di insularità ha dato nell'immaginario del grande turismo il senso di sicurezza, ma poi noi dobbiamo permettere la mobilità a costi contenibili del nostro territorio. E riguarda infrastrutture, piano di mobilità turistica, come dicevo prima, gli operatori turistici mi ribadiscono adesso continuamente il tema dell'aumento delle materie prime, quindi per loro, operatori turistici, tutto questo è un costo maggiore perché come li portano i turisti? Col pulmino, cosa mettiamo nel pulmino? La benzina, se sale la benzina sale il costo dell'utenza turistica e questo per loro è un grande problema perché diventiamo non più competitivi rispetto ad altre mete. E questa è la struttura complessiva, allora riassumendo perché il tempo sta finendo, i primi interventi che secondo Crioli Calci si devono fare con immediatezza in Sicilia domani quando si insederà la nuova assemblea, il nuovo governo. Un patto sociale immediato tra chi governerà la regione, le parti sociali, le imprese, il sistema fortissimo del terzo settore, dell'impresa sociale, che può essere un motore di sviluppo incredibile della nostra idea, insieme a loro programmare lo sviluppo utilizzando le risorse che ci sono, prendendosi la responsabilità di fare le azioni una dietro l'altra, controllando, monitorando, non è manca la cultura della valutazione, io le faccio, poi vado a sbattere e mi domando al prossimo ciclo che cosa ha fatto il ciclo precedente, io facevo questo in regione, no controllavo la spesa pubblica, va fatta continuamente, noi dobbiamo ragionare, però va fatta insieme, non può essere da una parte c'è la programmazione, dall'altra parte c'è un muro rispetto alle imprese, rispetto anche a come evolve l'impresa, che oggi abbiamo l'impresa sociale che è uno zoccolo fortissimo del sistema, quindi immediatamente bisogna mettersi insieme, tutti i temi di cui mi hai chiesto, turismo, infrastrutture, insularità, PNRR, bisogna farlo insieme. Allora grazie a Cleoli Calzi per questi 24 minuti che ha passato con noi, Cleoli Calzi lo ricordiamo, candidata alla regione siciliana, responsabile PNRR del PD Sicilia e tante altre cose ha fatto nella sua carriera, grazie anche a voi che ci avete seguito, speriamo di avervi dato qualche altra indicazione per quando sarete all'interno della cabina elettorale il 25 di settembre sceglierete quindi secondo l'idea che vi siete fatti, grazie per averci seguito all'appuntamento rinnovato al prossimo Talk Sicilia.